Bel successo del Cagliari sul campo della Salernitane, i Rossoblus sono imposti per 2-1 e proseguono il loro momento positivo in campionato, essendo giunti al loro ottavo risultato utile consecutivo. Il Cagliari è impostato una parita d'attacco, rendendosi subito pericoloso all'inizio con un paio di fughe di Suazzo. Dopo un salvataggio miracoloso di Pantanelli su Edibaggio, arriva al 35esimo alla rete del 1-0 Rossoblus con Esposito, grazie ad una bella azione di Pineda sulla fascia. Nella ripresa Cagliaritani subiscono al nono il pareggio per un colpo di testa di Stendardo che trafigge Pantanelli. Il Cagliari accusa il colpo e non si rende più pericoloso in quasi tutta la frazione. E quando sembra che la gara finisca in parità, arriva il gol della vittoria degli uomini di Ventura con un bel colpo di testa di Lopez su calcio di punizione battuto dal neoentrato Conti.